E' un po' di formaggio abbuffito in frigo, che fai? Vado al supermercato di fronte, lo compro già affumicato e sti cazzi! Stella Mechelen! Nobel! Santo subito! Sì! Trove! Se trovi un pezzo di formaggio abbuffito in frigo, che fai? Lo butto! Lo butto nella pasta al polvo, dato chi cazzo se la cambia? Assunto! Sì! Bravo! Allora, io che faccio così come l'ho fatto a casa? Certo! Allora, innanzitutto prendiamo un gatto! Come è gatto? Ma come vale che prendiamo un gatto? È coniglia aggacciadora! Innanzitutto prendiamo un galletto! Ma la ricetta non è coniglia aggacciadora, che c'entra il galletto? Sì, ma se lo stagli e poi lo fai a pezzi, non c'è raccolta nessuno e poi costa di meno! E allora potevamo prendere il gatto, sta qua fuori gratis! Dopodiché asciugamo due dita d'olio, ecco qua! Una spolverata di rosmarino, una manciata di olive nere, un pugno di rito, un pizzico di pepe e sale quanto va! Che c'è? Che c'è? Eh? Io faccio così a casa mia, cucina a occhio! No, cucini a cazzo! Ma scusami! Ma non puoi usare i pesi? Ma perché ti riesci a cucinare la tua palestra? Quando inauguri il cervello, avvertimi che ti porto la pianta! No! 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 Grazie! ... ... All'inizio non m'è sembrato tutta questa gente. E sono i marti tutti, tra l'altro... Non male, va. Prima di salutarvi, noi vogliamo ringraziare chi ci ha dato luci, audio e la possibilità di farci vedere... Alta e alla scala! E poi grazie a tutti! I anni tutto è massimo a Natale, grazie! Il nostro registro è massimo a Natale dell'estate! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.